Giornata di premiazioni ieri al Circolo Tennis dell'Aquila dopo quattro mesi di grande tennis in Abruzzo con il Tennis Tour 2021, I Love Abruzzo la degna conclusione nel Circolo Tennis dell'Aquila dopo il match point di Ortona, due giorni di manifestazione non agonistica dedicata a giovani atleti all'insegna dei valori dell'amicizia, del fair play e della correttezza. Vince chi sa perdere era infatti il titolo. I ragazzi sono stati premiati da rappresentanti delle istituzioni locali, iniziativa messa in piedi da Emilia Abruzzo contro le discriminazioni nello sport. Io mi sento di ringraziare tante persone, mi sento di ringraziare tutte le donne che in questi anni si sono rivolte a noi perché hanno creduto in noi e continuano a credere in noi. Le professioniste che naturalmente mi accompagnano da tanti anni ma soprattutto per me è fondamentale incontrare persone come il dottor Luca Del Federico, come i gestori dei circoli tennis che sono stati fantastici e in modo particolare i genitori, i genitori di questi ragazzi. La regione ha voluto dare un segno fortissimo di eventi nazionali e internazionali che per quattro mesi hanno animato tutte le città abruzzesi che hanno dato la disponibilità agli eventi di natura tennistica evidentemente. È un modo per concludere questi quattro mesi di tornei, di agonismo con una giornata all'insegna dei valori dello sport. Il modo più bello di chiudere questi quattro mesi è di sport agonistico nazionale e internazionale con 13 eventi bellissimi ma oggi il cuore si riempie di gioia perché è una manifestazione non agonistica per lottare, dimostrare contro le discriminazioni di ogni tipo e quindi i valori nel sociale che sono veramente gli elementi più importanti nella nostra vita e nello sport e quindi è la degna conclusione di questa manifestazione veramente unica in Italia. Insomma questo circolo che è uno dei più prestigiosi dell'Aquila, d'Italia, coevo a quello del fuori italico è oramai una realtà non solo abruzzese ma anche di livello nazionale e di questo sono veramente fiero del lavoro che ho fatto io insieme a questo direttivo e insieme al precedente direttivo ma in generale con tutti i soci del circo, le istituzioni davvero sono riusciti a mettere tutti quanti insieme volgendo tutto al positivo e alla voglia di fare e ci siamo riusciti.